Ciao a tutti ragazzi, io sono Negromante e oggi siamo qui in questo nuovo episodio di Batman Arkham Azilum Non avete capito niente Ciao a tutti ragazzi, io sono Negromante e oggi siamo qui su Batman Arkham Azilum Eravamo... Allora intanto faccio la cosa che ho fatto nell'altro episodio Qui il regista sono io Ecco Nel precedente episodio eravamo sfuggiti a quei rompiballe Mi si spaventa, passeri Quando avevamo cercato un'altra entrata per entrare nel... Nel centro me Non aspetta, sono andato troppo in lì Vabbè, avevamo incontrato lo spaventa Passeri Gli siamo sfuggiti E ora stiamo andando a salvare il commissario Gordon Perché Harry ha rapito il commissario Gordon Aumento il tuo volume Harry ha preso il commissario Gordon E noi dobbiamo riuscire ad arrivare al commissario Gordon E a darli senza farci scoprire dalle altre guardie Cioè detenuti Il suo abito a dire guarda Anor... Narcotizziamo la gente col fumo forza Mi sembra che qui c'era un... Un... Un come si chiama... Un... Trofeo dell'enigmista Non sono sicuro Ok ragazzi siamo arrivati alla somma di 5 iscritti In realtà adesso siamo a 6 Però... Comunque a breve ci saranno speciali 5 iscritti Su Minecraft ovviamente Probabilmente a più parti Non è sicuro Infatti qui c'è il trofeo E se a più parti o due parti su Minecraft O due su Minecraft e uno su un videogioco Che a breve vedete ancora se ne è sul canale O una su Minecraft e una su quel gioco Si è tutto un casino Allora... 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 Forse ce la faccio Narcotizziamo la gente Col fumo... No, no, no Lo che cosa va di là? Lo che cosa va di là? La cotidiana o la gente Con il fumo No, no, no Ora dobbiamo vedere Che giro fa questo Ah, 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 se mi vede non mi piace Certo, vi nel tuo mondo arde Tu non mi hai visto Sono troppo figo Ma ucciderò anche questo Perché Così sono più sicuro Narcotizzo la gente Col fumo Certo Ardei, ho già ucciso tutti Mmm, di qua Ardei, ho già ucciso tutti Na, 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 na Trofeo Ricordate Eccomi Io sono Batman C'è messo più del previsto Ha perso il controllo Sta cercando di dimostrare qualcosa Non sono sicuro di riuscire a fermarlo questa volta Ce la farai Batman, senti Non siamo soli C'è qualcos'altro là sotto Anche se non so che cosa Ma io so Così rovini la sorpresa Senta Oh, ti stai nervosetto Sì Bene Avervi piacere E' quello che viene dopo Eh, potremmo per arrivare al nostro primo boss ragazzi Uno degli cernimi nemici di Batman Cernimi nemici di Batman, uno dei più vecchi Uno dei più conosciuti C'è il login della dottoressa Ianni Non fa niente La dottoressa che abbiamo salato prima Esatto Proprio è lui Bebe Bane Pensavo fosse vato da black e fatemi Mi sentire Chi è stato? La dottoressa Ianni Quella bruca mi ha succhiato Eh, mi ha succhiato No, può essere Frenteso Bruca Vuol dire strega in spagnolo Ti piace la mia marionetta? Che le dici di farla scendere? Eh, mi ha succhiato il Venmo Mi sta vibrando il controllo Calmo, calmo, ben, calmo, calmo Siamo amici qua Ok, mi sa che non siamo neanche un po' amici Mi ha succhiato tutto il Venmo Tutti conosci Spiderman Venmo Ma tutto così a caso Aia, mi ha fatto male Signore Io lo so, ma lui che non lo... Eh, perché si è murato il muro di dietro Vabbè Sì, beh, sì Sogna Guadalupe Guadalupe A caso Aia, aia, no, 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 no Non devo morire, non devo morire, non devo morire Sono troppo figo per morire Forza, fai il peggio che sai fare Sto facendo parola a caso arabe Non lo so Altaïr kebab Ancora una volta Ah, mi sa che prima devo fare questo E vai quel primo Bisogna staccare di tutti i tubi Vabbè, vi faccio anche vedere cosa bisogna normale Ti riesco a vedere anche senza questo visuale Eh, però adesso Oh Non farti colpire, idiota Oh Cavaca A non rompere le balle bene Ok, fatti fuori Forza, beh, fammi vedere cosa si fa Guadalupe 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 Come meglio ha tolto vita, lo picchiato che sbaglio forse Forza bene, c'è un po' non ci sono più pilati di casca tutto in testa Quanto scometti No, no, non funziona così Ma in realtà non mi ricordo Qui non so dire se di casca tutto in testa No, no, non casca tutto in testa Non mi ricordo Eccolo secondo tu Beh, è terzo Però per questo uso la visuale che mi piace di più Con la visuale Vai, infretta, infretta Oh, l'hai ucciso quello No, cavolo Si è, mi sa ragazzi che La scomessa di non morire neanche una volta qui E l'ho perso Oh, bantana No Eh sì, ciao No, l'ho perso, dai, ho scommesso Non posso sopperti Vivere Eh, non ho vita Io, devo farvi rendere conto del fatto che non ho vita E questo mi becca E muore No, non sono Oh, potrei ancora vivere Eh, potrei ancora vivere Ma già questo gli toglie vita Eh, ma allora è facile Non me lo ricordavo Già il fatto che sbatte gli toglie vita Dimmi che è l'ultima voi Ecco Ci ho fatta Non avevo più vita Guardate, non ho più vita Sono vivo Grande Infatti mi si sta scaricando la macchina Ma voi sarete zitti Se si chiude per sbaglio, come vi ho già detto Mi dispiace Ma Macchine fotografiche quelle sono Bravo, batman 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 Ah Vabbè Cosa sono questi versi, batman? Eh, eh La batman Batman, tutto bene Dove è la quinta Naturalmente lui sopravvivene sempre il comissario Dobbiamo farti andare via dall'isola Non so So badare te stesso Appunto Io sono bei E io sono batman Io ti spezzerò batman Ho l'ancra bruta No bene Questa volta sarò in più Io ti spezzo te Assaggio la mia batman Mobile Boom Peccato che non è morto Non muoiono mai Cattivi Tranne uno Forse Non sono Torna sulla terra Ma è troppo pericoloso Non mi guarda Di lasciarti qui Non lo fai fare Allora io dicono che ha piazzato bombe in tutta Gotham La città è nel panico Hanno bisogno di te Siamo pronti a marchi Ben ha chiamato Brugger la dottoressa Yang Che significa? Spagno Significa strega Ah lo diceva Vabbè anch'io l'avevo detto Lezioni di spagnolo Su Batman Ora Ora Pruga nei compiuti Perché metto una cosa in poca Viva fuori tutto quello che puoi Sulla dottoressa Yang Quello che riesce a trovare L'avviso a Batcaverna La Batcaverna Sull'isola di Ak Infatti L'ho preparata anni fa Per certe situazioni E' bene a essere sempre pronti Come hai fatto a mantenere il segreto? Stiamo parlando di me? Tu pensi che la dottoressa Yang Stesse facendo esperimenti sul Ben La sostana che ha trasformato in animale reino? Sì e sono preoccupato Vein era persino più forte del solito Joker vuole il Beno E questo significa problemi Sto andando al punto del uomo morto a nord di Ak Ti contattano appena sono nella Batcaverna Ma siamo fuori dal centro medico Anna Yves Ci crea la Teresa Yang Nella Batcaverna E devo andare al punto del uomo morto Non mi ricordo dov'è Grazie Ecco L'ho aggiunto la mappa Terapia intensiva Quindi io Esco di qua E poi vado di qua Entro Ok Probabilmente quella porta sarà chiusa Perché di solito Le porte che prendo io sono sempre chiuse Vorrei non farmi scoprire da questi Mi sembra un po' impossibile Ma magari ce la faccio Perché sono figo Comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Perché mi dice 8 nemici sulla mappa 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah ci sono 5 Aspetta ma questa sarà giusta? Si però non vorrei farmi vedere Guarda che cosa voglio fare Per non farmi vedere Non so dove mi ha fatto apparire E qua Questo viene un fondo più alto Dove riuscire a uscire No stai scherzando Porta Porta chiusa Muori Io muoro Tu mi stai dicendo che devo per forza combattere Non è vero Non sono Batman Io sono Batman No io sono Batman Dimmi che sono uscito uccidere Mi tornata la vita per fortuna Non so come sono fatto Sono uscito a sopravvivere Veramente Credevo Puff Muori io Invece Invece sono troppo figo Guarda come mi aggiusti guanti In modo figo Allora Torniamo a noi La porta è di là Io non voglio combattere Quindi farò Una cosa tattica Non riesco ad andare Senza che questi Fammi rompano le balle Aspetta aspetta Ok non ci sono accorti Grande Sono troppo figo Che importanza ha il punto dell'uomo morto È stato il posto più frequentato dai suicidi Nell'ultimi cento anni Sì lo so Una volta è impedito a un detenuto Sì scusa Ho trovato l'ingresso a una caverna Ci ha portato un po' di scorte negli ultimi anni È come una casa lontana da casa Vediamo un 4 1,2 1,2 Aspetta andiamo da su Ah ma siamo già al punto in cui non ci sono più buoni Ah so chi là Immagino che devo andare là No Ma dove sono? Aspetta che guardo bene Dai fatti Là Io devo andare Dove diavolo devo andare Aspetta forse Mi ricordo qualcosa Perché Tipo Vi ricordate l'episodio che seguivamo le cose della pipa E il capitano Gordon E tipo avevo detto Avevo preso l'altra strada Era la strada che adesso io devo prendere Ma non so dove dove devo prendere Sono un genio Quando mi servono le cose mai No No qua non c'è Non credo Uh trofeo Eh che palle Io sono Batman 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 Che vi voglio fare tutti fuori Io sono Batman Io sono Batman Io sono Batman Ricordati che Io sono Batman Io sono Batman Io sono Batman Yeah Io sono Batman Io sono Batman Io sono Batman dopo questa canzoncina è finita la serie e ci vediamo no ok scherzo allora non so dove cavolo devo andare allora quella volta io mi ero detto eh ma non c'è niente ero tipo tornato indietro no si non ero tipo andato più in qua ah si di qua di qua mi ricordo mi ricordo ho ancora tempo mi sa se per se non si scarica prima la telecamera di qua di qua era di qua di qua mi sono sicuro infatti sono un genio spero di riuscire a far vedere la batcaverna si era la caverna fino al punto che avevo morto si si me la ricordo già sta caverna non so tipo la memoria e di qua siamo già arrivati tipo si o no si siamo già arrivati punto dell'uomo morto chissà perché eh ragazzi adesso vi faccio vedere si pronti? ah sta facendo da solo la batcaverna eh sull'isola di arca come raggiungere la batcaverna? guarda guarda fucidio be' non credo che riuscirò mai a rifarlo anche perché era video non l'ho fatto io quindi la luce identità confermata contro misure disattivate sicurezza disattivate no sicurezza e tl che per sicurezza le sicurezze sono per sicurezza ah la la batcaverna la batcaverna non è quella originale guardate va guardate qua cosa questa cosa qua allora dobbiamo analizzare dice il bat computer dobbiamo analizzare le robe i dati della ricerca del turista e batman sa tutto è figo intelligente e forte caricherebbero la porta della sostanza i riferimenti alla formula del titan sono diversi e basta una piccola panina per scatenare una trasformazione simila a quella del termo questo eliminerebbe i servatori di stoccaggio che richiede veina aspetta aspetta gli appunti non sono completi manca la porta qua deve essere questo il segreto che la dottoressa Iancchia sta nascondendo se Joker riesce a metterci davanti sopra riuscirà a creare un esercito di veina cosa non vuole mi ricordate che nel mi sembra precedente episodio quando avevamo salvato la dottoressa ha detto che ha gli appunti nella residenza Arkham gli appunti nella residenza Arkham che sta cercando Joker è appunto la formula vado a cercare la dottoressa e la diretta verso la residenza con Cash cercherò di uscire attraverso il sistema cognario per entrare userò il batartiglio esatto il batartiglio il batartiglio può essere ah si finalmente possiamo farlo ragazzi tanto passano moto macchine passa pure il riporter con la scopa volante scusa boss c'è voluto più del brevito davanti oh mi dispiace cercherò di essere più preciso la prossima volta che decido di madre isola mmm dai zitto eh ma mi stai accontando? ti faccio vedere io che cosa succede per ti che ho dovuto essere rompermi beh ragazzi io vi saluto qui sotto questo bel getto d'acqua pulita che mi passa attraverso fra l'altro dettaglio no aspetta 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 si mi passa attraverso tutto normale sto sudando ragazzi sto sudando sto sudando io vi saluto con questo bel omino siamo nelle fogne ci pisciano addosso va bene ci torneremo anche nelle fogne poi non vi dico neanche il perchè perchè a me eh ah no in questo batman non posso eh ah 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 eh pensavi di sfuggirmi eh ok stavo dicendo ci vediamo nel prossimo episodio di batman a breve speciali 5 iscritti potenziamento che padre mi interrompo uh grande altra vita ancora una abbiamo la vita massima ok posso finire la frase si ci vediamo al prossimo episodio bella ragazzi grazie